Ho preso da bere e la barista ha cominciato a chiedermi Ma che sei? Ma che cosa vuoi? Ti ha detto niente non c'è tanto un po' da bere ma non voleva darmi da bere e a quel punto ho chiamato il suo il suo padrone ha detto scusa questa barista non vuole darmi da bere e il padrone ha detto ma perché non vuole darmi da bere e la barista è stata zitta e era... Eh no, devo finire il discorso E insomma ti stavo dicendo che è successo questo e alla fine il barista ha detto va bene ti do io da bere e niente ma comunque sono nato via